Il boss di Camorra Gennaro De Cicco, 28 anni, ritenuto reggente del clan degli amato pagano, i cosiddetti scissionisti, inserito nell'elenco dei latitanti pericolosi, è stato arrestato dai carabinieri in un appartamento nel pieno centro cittadino di Melito, località a nord del capoluogo partenopeo. L'uomo si era dato alla fuga dal settembre 2012 per sfuggire a due provvedimenti restrittivi, un'ordinanza di custodia in carcere emessa nel 2012 per omicidio e un'altra ordinanza per associazione di tipo mafioso e traffico di stupefacenti emessa nel febbraio 2013. De Cicco è stato individuato e arrestato in un'operazione congiunta eseguita dai carabinieri della compagnia di Giuliano in Campania e dal nucleo investigativo di Castello di Cisterna, che lo hanno sorpreso a Melito in un appartamento di via Garibaldi.